Cari amici, buona domenica continua il nostro cammino in quella che la liturgia ci fa chiamare tempo ordinario. Quest'oggi vogliamo sempre rispondere alla domanda che ci sta guidando già da due domeniche, questa è la terza in cui ce la poniamo, perché Gesù è nato? Qui dobbiamo cogliere nel brano di Vangelo odierno due passaggi. Il primo è l'introduzione al Vangelo di Luca, sono i primi quattro versetti del suo Vangelo, dove Luca dice tutta la sua dedizione, tutto il suo impegno. Ho cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi. Li accolti da coloro che sono stati testimoni oculari e ministri della parola. Ha fatto ricerche accurate, Luca, e ha raccontato gli avvenimenti, in greco ta pragmata. Ma questi avvenimenti, in che cosa consistono? Chi riguardano? Cosa dicono a noi? E immediatamente lo sguardo di Luca in questa domenica si concentra su Gesù che da buon ebreo va alla sinagoga in giorno di sabato proprio nel suo paese Nazareth, il paese dove era cresciuto e dove ci dice il Vangelo secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga. E da maestro, da rabbi, perché tale era conosciuto, gli viene data la parola e legge il rotolo di Isaia. Gesù compie un atto strepitoso, decisivo. Dice a coloro che ascoltano queste scritture che io ho proclamato oggi si compiono. Sono scritture che si realizzano in pienezza per la mia presenza, per la mia vicinanza, per quello che io sono in mezzo a voi. Io sono il compimento di tutte le sacre scritture. Non è cosa da poco. In una sinagoga il fatto che Gesù arrivi, essendo conosciuto perché è cresciuto in quel paese, forse c'era qualcuno con cui aveva vissuto i giochi di infanzia, con cui aveva condiviso le fatiche della sua adolescenza, con cui aveva condiviso la gioia della sua giovinezza, con cui magari aveva condiviso il lavoro. Perché no? Qualcuno di loro è andato con lui a lavorare, a imparare il mestiere del falegname. Eppure Gesù dice proprio a questa gente, io sono la realizzazione di tutte le scritture. Ecco perché Gesù è nato. Gesù è nato per essere il compimento, la realizzazione di tutte le scritture. Allora quando noi leggiamo la parola di Dio, dobbiamo fare come Luca che ha saputo accogliere la testimonianza di coloro che sono ministri della parola, che ha saputo approfondire. Ma potremo fare questo se prima diamo a Gesù il ruolo, il compito che gli spetta. Lui è la pienezza delle scritture. Di lui le scritture hanno parlato, ma nello stesso tempo lui supera le scritture. Va oltre quello che le scritture dicono di lui. Perché solo lui è il verbo di Dio, solo lui è la parola che dà salvezza. Ed è così. Abitato dallo spirito, accompagnato dallo spirito, Gesù col suo insegnamento porta il lieto annuncio ai poveri, libera i prigionieri, dona la vista ai ciechi, dà la libertà agli oppressi. Soprattutto proclama nelle sue sacre scritture la sua grazia che salva e che libera. Buona domenica, amici miei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.